Buonasera a tutti e benvenuti al recap ciclico di quanto è successo oggi su DAX e su Fuzzimib parlando innanzitutto di una cosa interessante qui abbiamo avuto una bella discesa ma i dati di preapertura e di tutta la giornata sono stati soprattutto in Europa estremamente validi perché si è scesi? è stato approvato il recovery fund, non mi ricordo più se è qui o qui e perché stiamo continuando a scendere a giornare i minimi? forse perché la ciclica si aspettava un ritracciamento per la chiusura del primo T settimanale perché poteva partire un T inverso da qua a qualche cosiddetta di più perché siamo andati in death cross capite, se c'è un metodo che permette a tutti di illustrarvi perché ci sono dei movimenti in anticipo anche se arrivano delle notizie eventualmente inaspriscono dei movimenti che poi però tornano ad andare dove dovevano andare quindi quando incontro qualcuno che mi dice che fa trading con le news anticipando le news sui rumor e tutto il resto sinceramente io non ci credo anche perché se non rimane in overnight e qui magari dovrebbe aspettarsi dei dati buoni appunto per questa mattina e quindi aspettarsi un long se lo fa veramente oggi non sarebbe andata per niente bene come giornata ok? ma torniamo a le considerazioni relative appunto ai grafici che sono quelle che poi contano alla fine fine allora qui abbiamo che da questo massimo si è sviluppato il nostro terzo t inverso che può essersi chiuso o qui a 28 barre oppure qui dove l'ho segnalato a 22 tempo minimo per il DAX successivamente è partito il quarto t-3 inverso che può essersi tranquillamente chiuso qui e che però teoricamente non avrebbe ancora proprio chiuso soprattutto per la ciclica classica un t-1 per il fatto che se non avesse chiuso qui comunque avrebbe potuto anzi potrebbe ancora andare in chiusura lunedì perché potremmo essere ancora arrivati persino a 40 barre ma una vera e propria chiusura di t-1 inverso ce l'abbiamo solo ed esclusivamente per la ciclica questo è il massimo a 12.929 questo è il massimo a 12.935 29 inferiore a 35 teoricamente può essersi chiuso qui veramente molto molto poco di ok oppure può essere in chiusura nelle prime ore della mattina di lunedì in cui si potrebbe ritornare sopra questi massimi teoricamente come vedete però la lettura non è semplice infatti vi ho fatto già vedere che fino a qui 45 barre non mi convince il DAX solitamente è più breve più che altro si potrebbe anche potremmo anche aver chiuso qua teoricamente il terzo t inverso da massimo a massimo successivamente se eventualmente versino qui fosse partito il quarto t-3 inverso in ogni caso eventualmente dopo questo raccordo ok piccolo accordo inverso facciamolo partire da qui sarebbe soltanto a 17 barre su minimo 22 e quindi comunque per avere una condizione minima per la chiusura del t-1 mi aspetterei un massimo eventualmente almeno superiore rispetto a questo a 12.009 questo qua peraltro faccio che segnalarlo mettiamoci un ellis ci metto un piccolo ellis qua così a scanzo di equivoci almeno mi ricorderò che stavo mirando questo coso qua giusto per capire poi che cosa succede perché davvero quando ci sono movimenti che si possono comprendere solo dopo che sono avvenuti per un discorso di dove sono partiti i cicli non è semplice orientarsi già noi siamo riusciti a prenderci un buon long per cui non tiriamo troppo la corda facciamo sempre le valutazioni del caso anche perché oggi era venerdì anche perché eravamo appena andati in death cross per cui attenzione con notizie positive abbiamo continuato a scendere non c'è stato santo ok per cui teoricamente mi aspetterei quella gambetta lì questo per quanto riguarda il DAX per quanto riguarda invece il fuzzimib in questo caso è stato anche questa volta un po' più lineare ovvero il terzo T inverso anche in questo caso potrebbe essersi chiuso a 41 bar ovvero qua oppure qui non mi torna tanto come chiusura questo massimo qua per cui mi aspetterei di nuovo una gambetta a salire eventualmente sopra questi massimi per poi eventualmente andare a chiudere appunto il quarto T-3 inverso con un massimo e poi di nuovo discesa quindi un ritorno magari verso il livello inferiore della cumo verso la media mobile ok boom si va a sbattere contro la media mobile e poi si riprende a scendere ricordiamoci sempre che noi ragioniamo con tempistiche medie oltretutto di cicli anche per il settimanale la media è 4 la minima è 5 la massima la minima è 3 scusate per un T-1 e la massima è 5 per un T-1 quindi io sto facendo varie ipotesi la prima è che si chiude il T-1 a 4T-3 inversi a 3 non è possibile perché non c'è stato nessun ripiegamento secondo che non lo stia facendo o che non lo possa fare eventualmente a 5 per cui tutte le attenzioni del caso anche perché come detto in questo momento mi sembra molto probabile questa centratura con la partenza del 4T-3 inverso qui nulla vieta però di averne una differente e in determinati momenti non è affatto semplice comprendere questo genere di cose vediamo se eventualmente ci sarà appunto anche un cambio di ritmo come è successo già tempo fa e vi sollecito ad andare a dare un'occhiata proprio a un'analisi che si chiamava cambio di ritmo e in cui avevamo veramente azzeccato in maniera pazzesca l'analisi stessa vi faccio vedere anche perché faccio questo genere di riflessioni perché è la mia ipotesi principale di avere eventualmente prima un massimo lunedì mattina e poi la prosecuzione della discesa quindi prima la chiusura del 4T-3 inverso e poi eventualmente la chiusura del del ciclo e poi la ripartenza voglio dire appunto di un T guardate qua qui sul grafico candele giornaliere abbiamo avuto un primo T settimanale e un secondo T settimanale di questo T più 2 mensile successivamente con la chiusura qui del primo bisettimanale del primo T più 1 è partito secondo bisettimanale il secondo bisettimanale a quanto è arrivato però come candele? qui è arrivato un 11 è la durata massima alla quale si può avere per cui se non ci fossero accordi lingue e tutto il resto si dovrebbe soltanto eventualmente salire anche perché una una centratura differente eventualmente potrebbe essere questa abbiamo fatto prima 1 2 3 4 5 6 chiusura di primo settimanale partenza del secondo settimanale e adesso stiamo andando in discesa ma è eventuale già che non ci sia una chiusura con una candela rossa e che ce ne siano di verdi non è che proprio mi faccia mi faccia dire che è un qualche cosa di canonico ok qui c'è da dire sicuramente una cosa che anche l'inverso se vogliamo guardare per bene le cose abbiamo avuto una spinta fortissima con solo candele rosse verso il basso ok che anche in questo caso essendo arrivati comunque a 4 candele rosse l'inverso si dovrebbe andare eventualmente prima a chiudere il t-1 quindi con una candela verde all'insù magari il giorno dopo martedì un qualche cosa che non vada a violare ancora questo minimo e se si vuole continuare a scendere per far partire qualcosa di più di un t-inverso da qua bisogna far partire prima un t-settimanale da qua da questo minimo un paio di giorni circa eventualmente al minimo su Dax 12 ore senza una violazione di minimo dovrebbero esserci e poi si potrebbe continuare a scendere anche perché scendendo andiamo a chiudere il settimanale eventualmente partito lunedì martedì e che poi si può vincolare immediatamente al rivasso e poi anche il bisettimanale e poi anche il missile per cui ci può essere forte spinta da qua questo può essere ben più l'intimo inverso come vi dicevo può essere tranquillamente un t più 2 inverso ecco perché propenderei per uno un giorno e mezzo due giorni di salita almeno da lunedì lunedì e martedì e successivamente ripresa dalla discesa ma in base agli swing che potranno essere incopalati potranno essere rotti ok direi che questo è tutto abbiamo abbiamo ci siamo raccontati tutte le cose più importanti come al solito vi ricordo che coordino due gruppi di trader su facebook e poi per carità sento tantissimi altri gruppi di amici trader che non sono poi tantissimi ormai si contano sulla pinta della mano perché effettivamente le persone in gamba non sono tantissime ci sono tanti venditori di fumo purtroppo io mi porto a casa ho un'altra operazione valida quest'oggi con il mio gruppo seguendo le regole non faccio trading il venerdì pomeriggio cerco di evitare come la peste l'overnight anche se sinceramente questa potrebbe essere una valida occasione per un long vedremo lunedì se effettivamente quanto per ora appunto raccontatovi può essere appunto può essere poi fatto e visto il mercato anche perché ci sono state tantissime finte come avete visto e quindi tante cose differenti possono succedere in termini di tempo noi sappiamo che ci sono durate minime medie e massime in base a quelle in base alle medie dobbiamo orientarci a volte in base alle minime vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una splendida serata grazie